Sono così stanca, non ho voglia di alzarmi, voglio dormire ancora un po'. Emma, Emma dai alzati, vieni giù che abbiamo ospiti oggi. Oggi ci saranno tantissime persone che non conosco, uffa. Vabbè, alziamoci. Ma dov'è? Dov'è Bobo? Oh, Samira, mi hai fatto prendere un colpo. Oio! Non sento niente. Emma, ti sei alzata? Emma, ma cos'è successo? Emma, tutto bene? Oh mamma, adesso chiamo l'ambulanza e andiamo in ospedale. Emma, Emma, alzati, alzati per favore. Alzati Emma. Oh, madre, ma perché urli? Io, la mia salute è tutta a posto, grazie. Però non urlare, se no mi tappi le orecchie. Emma, tutto bene? Hai fatto un bel capitombolo. Sì, madre, per me va tutto bene. Non ti preoccupare, adesso mi alzo e vengo giù con te. Emma, non mi hai mai chiamato, madre? Mi hai sempre chiamato mamma. Sarà. Dai, dai, madre, che oggi c'è un sacco, un sacco di cose da fare. Forza, forza, andiamo giù così ti aiuto a preparare il tutto. C'è qualcosa che non mi torna. Vabbè, Emma, allora dai, andiamo che oggi, come ti dicevo, abbiamo ospiti. Va bene, va bene, madre. Tu non preoccuparti, inizia ad andare giù che io adesso vado in bagno. Allora, qui c'è un po' di cose da fare. Dobbiamo sistemare delle cose così gli ospiti arrivano. Prima di tutto, sì, questo è Armandio, però in effetti io sono un pochino bassa, per cui dovrò chiedere alla mamma di aiutarmi. Possiamo spostarlo un po' di qua, così almeno non dà fastidio alle ospiti che verranno oggi. Però adesso ve lo andiamo a dire, così almeno poi è tutto perfetto. Ok, adesso andiamo giù. Emma? Emma, ci sei? Sei pronta? Dai che dobbiamo preparare un sacco di cose. Allora, per cominciare dobbiamo tirar fuori dal frigo. Oh, madre, madre, guardate che dovrete mettere a posto l'armadio del bagno. Ma Emma, ma come parli? Mi sembri un po' strana, sicura che sia tutto ok? Non vorrei avessi preso una bella botta, vuoi che chiamo il medico? Ma no, madre, non vi preoccupate, è tutto sotto controllo, adesso vi devo aiutare per preparare il brunch. Ok, se proprio vuoi, se vuoi andare a letto però vai pure a letto, non c'è problema. No, 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 io voglio aiutarvi con la preparazione del brunch, anche perché gli ospiti a breve arriveranno, per cui dobbiamo trovarci tutte pronte ai posti di partenza. C'è qualcosa che non mi convince, Emma. Parla veramente come una persona adulta. Non so, forse quella caduta le ha fatto male. Non so se chiamare il medico o meno. Allora, vediamo cos'ha da offrire questo frigorifero per preparare un brunch di livello ottimo. Ma questo armadio, chi l'ha spostato? Martin, forse Anna. Devo mettere un sacco di cose in ordine, tra poco arriveranno anche gli ospiti. Presto, presto, devo fare di corsa, forza, 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 devo andare subito di sotto. Ma, ma Emma, come hai fatto? Come hai fatto a tirar fuori tutte queste cose? Sono stata solo cinque minuti su di sopra. Non ti preoccupare, non vi preoccupate, madre. È tutto a posto per il brunch, avete visto? Oggi faremo un brunch, che è una sorta di pasto tra la colazione e il pranzo. Non vi preoccupate perché sarà buonissimo. E poi potremmo dividerci i compiti. Voi vi occuperete delle pietanze, mentre io andrò a ricevere gli ospiti. Oh, Emma, sei davvero davvero gentile e sono proprio fiere di te. Oh, lo sarai ancora di più dopo il brunch. Non ti preoccupare, adesso andiamo a vedere se gli ospiti sono arrivati. Oh, ecco la prima ospite. Ok, andiamo allora. Ok, mamma, allora vado io. Non vi preoccupate, accolgo io gli ospiti. Va bene, Emma, pensaci tu. Sei sicura che non vuoi che venga anch'io? No, no, non ti preoccupare. Oh, benvenute, ben arrivate, dame mie. Seguite, mi prego. La stanza è di qua. Oh, che carina, tu devi essere la piccola Emma. Sì, sono la figlia minore della famiglia Vogel. Oh, sei proprio una bambina ben educata. Allora, come potete vedere, sulla destra si sale per i bagni, mentre voi vi accomodirete in cucina. Oh, tua figlia è davvero davvero educata. Anche se, sì, secondo me parla, non so, come una donna un po' adulta. Wow, è la prima volta che prendo parte ad un brunch e mi piace davvero davvero tantissimo. Sì, devo dire che ci sono tante leccornie. Oh, oh, devo dire che la tua Emma è davvero una ragazza sfiziosa. È davvero gentile, ma soprattutto molto educata. Oh, grazie. Ma non vi preoccupate. Anzi, adesso è il momento dei complimenti. Prego, seguitemi. Signore, vorrei che per un momento vorrei avere la vostra attenzione, ma secondo me comunque c'è qualcosa che non va. Parla in modo strano, non è la mia Emma. Non so, magari la caduta di oggi. Allora, volevo farvi i complimenti per come foste vestite, perché i vostri vestiti sono davvero davvero graziosi. Soprattutto la sua maglietta con questi fiori che la rendono davvero radiosa. Poi, ovviamente, anche le altre signore che partecipano al brunch sono vestite in modo davvero elegante. Volevo fare i complimenti a tutte. Oh, Emma, sei davvero gentile. Ok, allora adesso, visto che la parte dei complimenti è giunta al termine, potete continuare il brunch. Oh, mamma, avete visto? Ho fatto anche i complimenti. Oh, Emma, sono proprio fiera di te. Però, forse dovrei chiamare il medico? Tu che dici? Parla in modo strano? No, madre, io non parlo in modo strano. Non preoccupatevi. Davvero, è tutto sotto controllo. Va bene, Emma. Vuoi continuare ad aiutarmi con il brunch? Oh, sì, 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 sì. Infatti, forza, forza, andiamo. Forza, mamma, parliamone dopo, perché adesso dobbiamo accontentare le nostre ospiti. Prego, prego, seguimi. Emma, Emma, attenta, Zamira. Attenta, Emma. Oh, c'ho a cadere, attenta. Oh, oh. Emma, fai attenzione, per favore, non cadere di nuovo. Ma dove sono? Oh, mamma, oh, mamma, la bimba è caduta, tutto bene? Ti sei fatta male? Emma, è la seconda caduta oggi. Ma cosa succede oggi? Ora chiamo davvero l'ospedale. No, niente ospedale. Io non voglio andare all'ospedale. Ma poi, dov'è, Bobo? Io voglio Bobo, mamma. È tornata la mia Emma. Per fortuna non ti sei fatta nulla. Ma poi, chi sono tutte queste persone strane? Io non le voglio, mamma. Io voglio il mio Bobo. Per un momento ho creduto di aver perso la mia piccola di casa. No, ma tutto, tutto bene. Però io adesso voglio dormire. Sono, sono stanca. Devo dire che la piccola Emma è tornata tra di noi, fortunatamente. Meno male che non si è fatta nulla. Oh, ma, ma tu chi sei? Io sono una signora incinta. No, no, tu non sei incinta. Tu hai mangiato troppe ciambelle. Te lo dico io. Sì, sì, senza ombra di dubbio. Mamma.